Un altro caso di stalking ed ennesima pronta risposta della polizia di Ragusa che ha tratto in arresto il responsabile mettendo fine ad un vero e proprio incubo per la sua ex compagna e l'intera famiglia della stessa continuo appostamenti, telefonate e minacce di morte rivolte alla donna tanto da portare la stessa a non uscire più di casa e a farsi accompagnare per andare al lavoro. Ma questa volta lo stalker oltre alla donna ha preso di mira tutta la sua famiglia a cui ha voluto rendere la vita un inferno per il solo fatto di proteggere la donna. I fatti sono emersi a seguito della denuncia presentata in questura da parte della vittima e dei componenti della sua famiglia che in più occasioni sono rimaste vittime delle gravi minacce di danneggiamenti nei loro confronti nonché a seguito di diversi interventi operati dagli uomini della sezione volante. Dopo una storia di alcuni anni dalla quale era nato anche un bambino la donna ha deciso di troncare la relazione con quell'uomo che in più occasioni aveva posto in essere atteggiamenti violenti nei suoi confronti. L'uomo però non ha mai accettato la fine del rapporto iniziando a perseguitarla con telefonate e minacce. Una notte l'uomo addirittura tempestato di telefonate con minacce di morte ai fratelli della donna uno dei quali residente nel nord Italia in un'altra occasione invece ha gravemente danneggiato l'auto del padre della donna parcheggiata sotto casa e distrutta il motorino in uso al fratello minore. Non pago poi in un'altra occasione lo stalker ha pure devastato il negozio nel quale lavorava la sua ex campagna. A seguito dei numerosi episodi di violenza sia la donna che l'intera famiglia viveva ormai da giorni in un perdurante stato di ansia e di apprezzione che aveva portato tutti a temere fortemente per la loro incolumità cambiando di fatto le loro abitudini di vita per paura di incontrare l'uomo. Dopo le denunce così gli uomini della volante e della mobile si sono messi sulle tracce dell'uomo rintracciandolo a vittoria e traendolo così immediatamente in arresto per il reato di atti persecutori aggravati. Al termine delle operazioni il trentenne ragusano già colpito da numerosi pregiudizi penali è stato sottoposto agli arresti domiciliari.